Bene, allora siamo arrivati a un punto in cui vorrei sollecitarvi l'attenzione su un aspetto. Abbiamo parlato all'inizio della trasformazione digitale, abbiamo detto che effettivamente dall'oggi al domani non ci possiamo aspettare grandissime cose, bisogna impostare un percorso, un cammino culturale, lo ribadisco, però allo stesso tempo sulla trasformazione digitale è necessario sicuramente prepararsi. Prepararsi perché? Perché ormai è stato dimostrato in più di un'occasione con svariate ricerche internazionali e tutto quanto, oggigiorno ormai possiamo dire con certezza che la trasformazione digitale è un cosiddetto megatrend. Cos'è un megatrend? Allora un megatrend è qualcosa, un movimento che in qualche modo accade, che lo vogliamo oppure no. Quindi noi ci possiamo anche provare ad arrampicare sugli specchi, a cercare di fare i tradizionalisti quanto vogliamo, comunque il mondo si muove e questo è appunto il significato vero di megatrend. Quindi come normalmente accade quando ci sono movimenti di questa portata, quindi ci sono dei movimenti che a livello globale hanno cominciato ad andare in una direzione, ovviamente o si riesce appunto a cavalcarli in tempo e quindi dotarsi o associarsi a figure o entità che riescono a permetterti di cavalcare al meglio certi tipi di trend, oppure c'è poco da fare e si rimane indietro. Rimane indietro in questo caso significa potenzialmente anche il famoso essere uberizzati che si menzionava prima. Quindi diciamo cosa abbiamo fatto come Viagroup per cercare di dare ai nostri clienti, partner, la possibilità di affrontare al meglio le sfide della digitalizzazione lato anche e soprattutto manufacturing ma non solo. Abbiamo creato la cosiddetta una divisione diciamo trasversale che l'abbiamo chiamata digital industries e cosa fa? Si pone come un polo unico di riferimento per tutto quello che riguarda trasformazione digitale per l'ambito manufacturing e limitrofi. Ha in particolar modo unificato competenze molto spinte che appartengono al mondo variegato di Viagroup quindi ha accorpato aziende e diciamo competenze che normalmente agivano nell'ambito dell'engineering, della progettazione, della simulazione di una serie di parti di progettazione e cosa è successo? Abbiamo creato un team di una novantina e passa persone a livello italiano e più di una trentina a livello europeo quindi per supportare le imprese a trasformarsi digitalmente in questi ambiti. Cosa è successo? In particolar modo ci siamo adattati in primo luogo a cercare un'aderenza con ciò che è lo stile di funzionamento delle aziende manufatturiere. In particolar modo le aziende manufatturiere oggi si comportano in modalità codificate bene o male su tre macro filoni. Una è la produzione del singolo prodotto, l'altra è la linea più specifica su quello che è i processi di automazione industriale quindi la linea di produzione e tutto quanto e dall'altra è la modellazione digitale di un prototipo fisico che quindi può servire per creare modellazione sopra, simulazione e quindi agire proprio sul modello. Allora diciamo queste tre filoni hanno dato modo di provare a creare proprio una vera e propria offerta che va proprio a calzare tutti i processi reali che vengono supportati in questi ambiti che normalmente appunto come dicevamo sono la gestione del ciclo di vita, la progettazione, l'ingegneria, la parte di R&D quindi tutti questi aspetti vengono targettizzati perfettamente perché ora qua vedete una serie di acronimi ma che fondamentalmente danno l'idea della complessità di tutte quelle che sono le competenze che sono in gioco. Dalla gestione del ciclo di vita di un prodotto, dalla parte di gestione dell'asset, dei MES quindi manufacturing and security system, tutti questi aspetti qua e ad esempio mi permettono di andare a creare i cosiddetti digital twin quindi a creare il cosiddetto corrispettivo digitale del prodotto fisico o del processo di automazione in essere oppure del modello del mio, ad esempio se io fossi un produttore di moto da corsa ho il mio modello che simula diciamo il mio motore sulla base delle quali io poi faccio delle implementazioni successive, cerco di migliorare le prestazioni quindi analisi prestazionale e tutto quanto e quindi da lì posso andare a incidere direttamente su tutto quello che è il miglioramento, l'ottimizzazione, l'efficienzamento di processi, metodologie e appunto simulazioni. Quindi questa nuova divisione serve proprio per cercare di aderire e comunicare al meglio la grande competenza per ogni settore sfruttando appunto il paradigma della parte di digital twin. Dall'altro aspetto diciamo c'è anche un veicolo di supporto al modello di erogazione del servizio che è quello proprio della servicization così chiamata, ormai siamo già abituati a questo modello, il cloud ci ha abituato a questo modello dell'esa service quindi riuscire a garantire certi tipi di supporto, di progettazione, di aderenza al mercato tramite appunto un'offerta di servicization e quindi anche lì supportare le imprese con un OPEX capace di poter ribaltare il valore all'interno di tutta la filiera. Grazie. 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 Grazie.